In 17 dei 24 punti monitorati lungo la costa calabrese, il 70% del totale, le analisi hanno evidenziato una carica batterica più alta di quella consentita dalla legge. Per 14 di questi punti il giudizio è assolutamente negativo. La situazione più critica viene registrata nelle province di Crotone e di Vibo Valencia, dove tutti i campionamenti sono risultati con valori di batteri, oltre i limiti consentiti dalla legge. Questa è la fotografia scattata da Goletta Verde, l'imbarcazione di lega ambiente che è tornata nei mari calabresi e che chiede ai sindaci e all'ARPACAL di monitorare le foci dei corsi d'acqua, accanto ai quali spesso si trovano strutture ricettive come campeggi e stabilimenti balneari. Un dato che dimostra come ancora oggi il problema della depurazione sia un problema presente in Calabria. Di questi 24 punti, 17 sono usciti inquinati o fortemente inquinati, ovvero vuol dire che hanno superato i limiti previsti dalla legge o sono risultati di due volte superiori. Sono punti, come dicevo prima, soprattutto in corrispondenza delle foci di fossi e fiumi, ma sono punti che possono portare anche danni alla salute del mare calabrese, su cui riteniamo sia utile e importante intervenire. Secondo l'indagine di lega ambiente, la Calabria è la penultima regione italiana per quanto riguarda l'efficienza dei servizi di depurazione, con appena il 49,9% di popolazione servita.